Martedì 11 settembre 2018, siamo ancora su Ciper TV, siamo sempre a CrossFit Bilizio e vediamo subito la classe di oggi che inizierà con 400 metri di corsa, possibilmente all'aperta, visto che il tempo ancora ce lo consente. A seguire un lavoro di riscaldamento studiato per riscaldare particolarmente le spalle, visto che le utilizzeremo nella skill che ci sarà dopo. Il riscaldamento consiste in 10 rotazioni delle spalle controllate e lente, quindi 10 per lato e per direzione e 10 rotazioni delle scapole per lato e direzione, anche queste molto lente e controllate. A seguire 10 scapole a pull up, quindi delle pull up scapolari e poi delle scapole a push up per concludere il riscaldamento. Le skills di quest'oggi, un 10-15 minuti di lavoro sugli handstand e se non avete gli handstand non c'è problema, il vostro trainer sarà sicuramente in grado di farvi fare tutte le progressioni che vi servono per arrivare a fare questo esercizio. Il world di oggi è un team world in coppia, quindi è un team world da due, che vede 20 minuti unwrap come durata, dove farete alternandovi come preferite, quindi può darsi anche che uno faccia tutto e l'altro non faccia niente, ma non credo succederà. Comunque, 60 calories sulla assault bike, 40 hip extensions, 20 toes to bar, 10 lunges in sincrono, quindi li farete contemporaneamente e in sincrono. Per quanto riguarda i carichi, gli advanced useranno 60 kg gli uomini e 40 le donne, per quanto riguarda invece gli intermediate saranno 40 kg gli uomini e 30 le donne e i beginners 20 kg gli uomini e 15 le donne. Buon divertimento, ci vediamo domani.